Alla fine è una questione di imparare a capire cosa siano e come agiscano le emozioni. Settimana scorsa ho parlato di rabbia, di questa rabbia che vedo crescere e che sento crescere anche dentro di me. Ma è proprio rabbia o è collera? O è amarezza? O è sofferenza? E soprattutto che cosa devo farne? Don Giovanni Benvenuto che ha lanciato anche di recente, come forse ho già anticipato, i falsi miti sulle emozioni, dieci mail che parlano di emozioni e la possibilità di attingere a moltissimo materiale su questo tema sviluppato in una serie di incontri che ha tenuto con una professoressa dalla quale ovviamente in questo momento non ricordo il nome, non riesco neanche a trovarlo, ma che comunque ha detto delle cose interessantissime sul tema delle emozioni. Perché le emozioni hanno un loro significato e questi miti effettivamente ci possono profondamente danneggiare. Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. Che poi, miti, parliamone, a volte è vera e propria manipolazione, a volte è un modo attraverso il quale poterci controllare. Perché se non sappiamo dare un senso e prendere spunto dalle emozioni per ragionare, rimariamo lì, a quel livello, a livello dell'immediatezza, a livello della inautenticità, come descritta in un TEDx interessante, che ci invita a non essere autentici. Ma in realtà sta dicendo che non dobbiamo essere spontanei, che non dobbiamo essere immediati, cioè senza mediazione. Questo è un tema ricorrente, me ne rendo conto. Ne ho parlato spesso in caffè e cappuccini, ma alla fine la lingua batte dove il dente duole. Torniamo a riparlare delle cose che contano. Le emozioni sono qualcosa di naturale, nel senso pieno del termine. Non come viene detto oggi, naturale per consueto, per frequente. No, sono due cose diverse. Uno è la ripetizione di un certo comportamento, che finiamo per ritenere naturale quando in realtà non lo è. È soltanto ripetuto, consueto. Altro è naturale in quanto attiene alla natura. In questo caso attiene alla fisicità. Le emozioni sono il modo attraverso il quale il corpo ci manda dei segnali, manda dei segnali al cervello perché agisca. Ma quello che è oggi fondamentale è quello che non ci viene detto di fare. Anzi, in alcuni casi, ci viene detto di non fare. E vi invito un attimo a soffermarvi sulla potenza delle parole. Diverso è non dire di fare da dire di non fare. Ci siamo capiti? Siamo allineati? Bene. Cioè, quello di fermarsi a ragionare sulle emozioni. Ci viene detto che alcune emozioni sono negative e altre sono positive. L'amore è un'emozione positiva. La rabbia è un'emozione negativa. No, in realtà sono due emozioni. Uno non è neanche l'amore, ma è l'infatuazione. E sono entrambe neutre. Le emozioni sono neutre. Sono delle stimolazioni che il corpo ci dà. È aver voluto trasformarle in comportamento naturale che ha finito per dover dare un giudizio morale su di esse. Perché se noi dobbiamo essere spontanei e quindi agire secondo le nostre emozioni, beh, allora vuol dire che appunto uno che prova rabbia, collera, può lasciarsi andare alla rabbia, alla collera e sfogarsi. E questo è negativo. Allora, per non dire che deve esserci una mediazione del cervello, quello che ci viene detto è che la rabbia è negativa. L'amore no. L'amore non lo è. Per cui in un telefilm americano si arriva alla aberrante situazione di un coniuge che tradisce l'altro, addirittura in una nuova tipologia di convivenza su un diverso livello di sessualità e non ha assolutamente nessun tipo di valutazione morale questo comportamento. Ma se l'altro prova rabbia e in un momento di estrema difficoltà dà uno schiaffo al figlio che ha fatto una roba terrificante, allora deve andare in terapia. Deve essere messo in terapia per imparare a gestire la propria rabbia. E questo è il punto. Se noi diamo semplicemente valore alle emozioni, allora dobbiamo dare un giudizio morale sulle emozioni. Ma se invece le emozioni sono uno stimolo che ci devono spingere a ragionare, a riflettere, a capirne l'origine, a capirne la causa, a capirne le conseguenze, a ragionare sulle conseguenze, allora è tutt'altra cosa. Allora i falsi miti delle emozioni, quei dieci falsi miti che cita Don Giovanni nella sua sequenza e che adesso vado a enunciare invitandovi ancora una volta a farne parte di questo percorso, a iscrivervi, nel caso avete bisogno di qualche informazione contattatemi, ve li do tutti e volentieri, sono questi. Esistono emozioni negative e positive. No, non è vero. Le emozioni sono neutre. Certe emozioni sono distruttive, certe emozioni sono sbagliate. No, è come gestiamo o non gestiamo noi le emozioni che produce dei risultati. Ma noi dobbiamo fermarci, riflettere e ragionare. Le nostre emozioni non vanno regolate. No, no, vanno regolate. Io devo imparare a gestirle, proprio perché ho capito che c'è dietro qualcosa. Io non posso lasciarle fluire normalmente. Mi stanno dicendo qualcosa e io devo ragionare su questo, ma non assecondarle. Mostrare le emozioni significa essere deboli. Anche questo è un errore. Mi hanno sciaguratamente insegnato da bambino che gli uomini non devono mai piangere. Ed è una ferita che porto ancora dentro. Se reprimo le mie emozioni spariranno. No, non è vero. È come cercare di infilare sott'acqua una palla di gomma. Più cerco di spingerla in basso, più farà pressione per venire fuori. E quando esce, scoppia. Quando sono triste, devo distrarmi. No, devo capire cos'è la mia tristezza. Devo andare all'origine. Se io non ragiono, non vado da nessuna parte. Non dobbiamo avere mai paura. No, la paura è fondamentale, è utile. Bisogna imparare a convivere con la paura. Cioè la famosa litania delle Bene Gesserit, dal libro Dune di Franz Herber sulla paura, che è fondamentale. Anzi, vado a riprenderla così ve la leggo. Non devo avere paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta alla distruzione totale. E fin qui sembrerebbe da ragione a quello che dice, non devo avere paura. Ma attenzione alla virazione. Affronterò la mia paura. Ecco cosa bisogna fare. Permetterò che passe oltre i miei attraversi. Io devo imparare a gestire la mia paura. E quando sarà passata, seguirò il suo percorso con il mio occhio interiore. E dove la paura è andata, non ci sarà nulla. Rimarrò soltanto io. Beh, potremmo ragionare e riflettere su questo, ma diciamo che fondamentalmente il concetto è quello di affrontare la paura. Non negare di averla, ma affrontarla. Possiamo provare emozioni a comando. Beh, forse gli attori riescono a simulare questo, ma non possiamo provare emozioni. Le emozioni sono una risposta fisiologica a quello che ci sta capitando. E dobbiamo capirle. Insisto ancora, l'ho detto 50 volte, e aggiungiamo la 51esima. Dobbiamo capirle per poter capire cosa vogliono dirci. E io non sono le mie emozioni. Questo era il decimo falso mito. Io sono quello che controlla, capisce le emozioni, le lascia sfogare nel modo giusto, comprende cosa c'è dietro e agisce di conseguenza. Perché noi siamo animali razionali, capaci di sentire, ma di avere volontà e razionalità per poter poi agire di conseguenza. Che cosa ne pensate? Buon cappuccino a tutti. Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbits, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram, telegram.me slash caffè con Paolo. Senza l'articolo, mi raccomando. Caffè con Paolo. Sempre su Telegram puoi contattarmi, telegram.me slash paolo pugni. Grazie e alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.